Il mio pensiero, la mia esperienza per 25 anni di attività di pubblico ministero antimafia in Sicilia e ormai da 5 anni di avvocato che si occupa di casi molto delicati sempre su questo fronte, su questo territorio è che delitti eccellenti potremmo dire come quello del sindaco Vassallo senza apparenti veri barlumi di verità dopo tanti anni hanno una sola spiegazione. La spiegazione è quella che si tratta di delitti che nascondono moventi occulti che nascondono un movente legato a incroci fra interessi squisitamente criminali con interessi di ambienti istituzionali deviati. Quello che so di questa vicenda che ho appreso per il momento soltanto dalla lettura dei giornali, da colloqui con i familiari, da uno studio del caso non ancora ovviamente degli atti processuali essendo stato appena oggi formalizzata la mia nomina è che in questa vicenda ricorrono appunto queste stesse caratteristiche che ho visto in prima persona anche da investigatore pubblico ministero che so nell'omicidio a Rostagno, nel delitto di Mauro De Mauro nella vicenda trattativa stato mafia, cioè tutte vicende che si collegano tra di loro per questo filo rosso potremmo dire un filo nero che è quello delle collusioni fra poteri criminali e poteri cosiddetti leiciti, legittimi dove ci sono delle infiltrazioni dentro lo Stato, quelle infiltrazioni dello Stato che determinano depistaggi e che rendono quasi impossibile l'accettamento della verità allora nel momento in cui si fa un salto di qualità, nel momento in cui si cominciano a svelare queste coperture e questi depistaggi la verità comincia a venire fuori e è così che si è potuto fare un processo nei confronti dei assassini di Mauro Rostagno e così si è potuto fare un processo per il caso De Mauro e così si è potuto fare un processo sulla trattativa stato mafia. Bene, allora io questa cosa penso e mi auguro possa avvenire anche in questo delitto, la giornata di oggi è importante perché costituisce una riflessione collettiva e nazionale su questo tema.